Per il secondo anno consecutivo la Diocesi di Ascireale, in collaborazione con la Fondazione Maria Barbagallo e il Museo Diocesano, organizza il ciclo di incontri culturali liberi di pensare, open space della conoscenza, che si propone di raccogliere e trasmettere esperienze condivise che raccontano la fede nella poesia, nell'arte, nelle scienze, nella musica e nell'attualità. Sette gli appuntamenti che con cadenza mensile occuperanno la sala conferenze dell'archivio storico Diocesano di Ascireale e che vedranno interessati i principali aspetti della nostra società. Il primo degli appuntamenti proposti è domani, giovedì 7 novembre, e vedrà come relatore Don Fortunato di Noto, sacerdote e scrittore italiano, fondatore dell'Associazione Mater per la lotta contro la pedofilia e la tutela dell'infanzia in Italia e nel mondo. Con lui si dibatterà di devianza giovanile, cyberbullismo e baby gang. Questo spazio liberi di pensare nasce proprio da questa condivisione di esperienze, open space della conoscenza, proprio questo. Voler condividere delle esperienze che ognuno di noi ha o passione o un particolare trasporto per un particolare finale di studi, e quindi sia l'arte, sia la letteratura, sia la poesia, sia la scienza, sia la musica. Ognuno di noi ha un insito in sé qualcosa di diverso che un altro non ha, l'unicità nostra. Questo spazio nasce proprio dal voler condividere quello che è dentro di noi, che vogliamo dare agli altri, vogliamo comunicare agli altri, perché attraverso questa comunicazione ci possa essere anche questo spaziare in qualcosa che è inconosciuto dall'altra parte. Insomma, qualcosa da scoprire e per questo l'invito è rivolto a tutti, perché questo spazio nasce con la condivisione di qualcosa che sia apportata di tutti, e quindi con un linguaggio semplice che possa appunto catturare l'attenzione di tutti.